Ciao da Avsim! Parma Juventus questo sabato 19 dicembre alle 20.45 di conseguenza su Dazon Con questa maglia può darsi, si sta parlando anche di maglie della Juventus, quelle della prossima stagione Io non lo so, anche perché forse la maglia arancione, viste le zone arancione, no, forse potrebbe anche essere un modo per mettere in difficoltà l'avversario così per confonderla Però in realtà mi farebbe molto piacere se la Juventus indossasse questa maglia E anche tra l'altro abbiamo indossato, o meglio, una maglia blu, la maglia blu della scorsa stagione Abbiamo indossato la scorsa stagione appunto in quello 0-1, l'ultimo Parma Juventus con gol di Chiellini Chiellini non ci sarà ma appunto dobbiamo parlare di precedenti con questo avversario contro il Parma Dobbiamo parlare anche di Chiellini e di giocatori indisponibili e quindi tutti i dettagli di questo Parma Juventus Prima però vi chiedo di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video Tra cui il post partita a caldo stasera in diretta con chat aperta ai soli abbonati Quindi valutate anche i vantaggi dei piani di abbonamento qui sotto E il post partita a mente lucida, mente fredda domattina oltre live reaction, analisi tattica e quant'altro Entriamo nel dettaglio di questa partita La Juventus molto semplicemente, seccamente e in maniera essenziale deve vincere, punto e basta Non è assolutamente possibile fare altro risultato contro questo Parma Con tutto il rispetto dovuto ad un avversario che comunque sta facendo il suo percorso E comunque può rappresentare degli aspetti ostili e ostici per la Juventus Con tutto il rispetto che bisogna dare a qualunque avversario Ma io direi anche con il rispetto di se stessi e di il percorso che la Juve sta facendo compirlo In generale questa squadra, cioè il Parma, non dovrebbe creare dei grossi pericoli alla Juventus Dovrebbe semplicemente rappresentare la difficoltà standard di qualunque trasferta contro una squadra Che teoricamente lotta per non retrocedere E il fatto che abbiano conquistato sei punti con anche una vittoria nelle ultime cinque partite Non dovrebbe cambiare questo dato di fatto Vedremo dopo come gioca il Parma Prima però dobbiamo parlare dei convocati di Pirlo e dell'assenza di Paolo Di Bala Mancheranno infatti Di Bala, Artur, Chiellini e De Miral Chiellini era stato convocato per la partita scorsa che era in casa A mio avviso è stato convocato, cioè contro l'Atalanta Più che altro per fargli respirare di nuovo l'aria del campo Ma è chiaro che sta facendo un piano di recupero dall'infortunio così come De Miral Che lo porta in questo momento a non poter affrontare ancora una trasferta Perché deve fare i suoi allenamenti Quindi il fatto che Chiellini non sia di nuovo convocato non significa secondo me che ha avuto una ricaduta Ma semplicemente questo, di evitargli la trasferta a Parma Manca Artur perché Romero che avrebbe dovuto essere espulso nella partita contro l'Atalanta Con quella ginocchiata ha praticamente distrutto il muscolo di Artur Che però dovrebbe recuperare per l'ultima partita di quest'anno solare contro la Fiorentina Ma appunto manca Paolo Di Bala che non è stato convocato Si legge, si dice, per un affaticamento muscolare patito proprio nell'allenamento di ieri Che cosa può voler dire? Cosa può significare questo affaticamento muscolare? Non voglio vederci cose negative, anzi è un affaticamento muscolare Quindi prendiamolo come tale Non ci sono questioni legate al contratto Quindi non voglio pensare male Ecco non voglio pensare male, non c'entra nulla il rinnovo Non è un fuori rosa, non è come Eriksen o situazioni simili Anzi dovrebbe giocare poi contro la Fiorentina, speriamo che ci sarà E sarebbe anche, dice, qualcuno partito titolare Se fosse stato disponibile per questa partita Intanto però non c'è E allora è una situazione meravigliosa Sapete perché? Perché se la Juventus dovesse stravincere Allora avranno ragione magari quelli che dicono Che senza Di Bala si gioca bene lo stesso E anche senza Di Bala non abbiamo problemi Possiamo tranquillamente vincere senza Di Bala Però intanto è bello vedere Tra virgolette è bello Che nella casella degli attaccanti Della lista dei convocati da Pirlo Ci siano soltanto Morata, Ronaldo e D'Agraca Senza Di Bala E quindi evidentemente siamo una rosa incompleta Non solo Ma a questo punto io andrei a chiedere anche a Pirlo Cosa pensa a cose fatte a distanza di qualche giorno Del fatto che ha fatto entrare Quante volte ho detto fatto? Entrare Di Bala contro l'Atalanta solo all'85 Al di là del fatto, ripeto Che in quella partita forse facendola entrare prima Magari l'avremmo pure vinta Invece che pareggiarla uno a uno Cosa pensa di questo? Nel senso che sono stati tenuti in campo Fin quasi alla fine sia Ronaldo che Morata Che a detta Di Pirlo non erano nelle migliori condizioni Soprattutto Morata Perché comunque non hanno fatto questa buona partita E adesso devono fare 90 minuti Devono fare 90 minuti perché non c'è cambio Contro il Parma Perché intanto quello che teoricamente si è riposato Contro l'Atalanta, cioè Di Bala Si è fatto male nel frattempo Con tra l'altro una problematica Se vogliamo anche ansiogena Di quelle che saranno le prossime prestazioni di Di Bala Visto che da molti mesi stava provando a riprendersi Ma ancora non ce la stava facendo Insomma siamo punte a capo Di difficoltà in difficoltà E parliamo allora anche delle parole di Pirlo Ieri alla vigilia Pirlo che come sempre non ha fatto conferenza stampa Ma ha rilasciato la sua intervista Pubblicata classicamente alle 17 A JTV Ai microfoni di Enrico Zambruno La trovate se volete Trascritta integralmente sul mio sito www.absin.video E che cosa ha detto di significativo Intanto ha anticipato quello che vi dirò tra poco A livello statistico E cioè che il Parma è una squadra che Gioca chiusa dietro E punta sulle ripartenze In tal senso sarà una partita complicata per la Juve Perché dovremo trovare gli spazi Poi però ha detto Che stiamo bene fisicamente Il che però non gli ha impedito Di dire una cosa che se vogliamo È contrastante con questa affermazione E cioè dobbiamo recuperare in fretta Perché si gioca ogni tre giorni Quindi evidentemente c'è qualcuno Che benissimo fisicamente non sta E speriamo che non ci si riferisca a Morata e Ronaldo Perché se Morata e Ronaldo Dopo la brutta prestazione fatta contro l'Atalanta Non stanno neanche benissimo fisicamente E non ce l'hanno fatta recuperare la svelta E Di Bala non c'è Non siamo messi benissimo E poi ha detto che comunque La Juve sta crescendo Sotto tutti i punti di vista Sta crescendo quindi anche dal punto di vista In tutte le fasi Ha detto non c'è una fase Su cui chiedo di più In cui chiedo di più ai calciatori Stanno migliorando tanto Soprattutto dice Per l'aggressione Della profondità Con i nostri interni Cioè con i centrocampisti Dice quando gli attaccanti Vengono bassi Magari per chiamarsi indietro La difesa Oppure per cercare appunto Di giocare il pallone I centrocampisti sono bravi Ad aggredire campo alle spalle Diciamo che è stato un po' diplomatico Pirlo Comunque Su quello che va E quello che non va In questa Juventus Non è stato abbastanza schietto Come al solito Secondo me Intanto per ripeto È uscita la notizia Che Di Bala Non sarebbe stato disponibile Oltre all'assenza di Artur E sono due assenze pesanti Soprattutto quella di Artur In questo momento Perché Di Bala Fin qui titolarissimo Non è ancora stato Però Artur Stiamo un po' dicendo tutti Che è fondamentale Per la qualità E l'organizzazione Del gioco Del nostro centrocampo Ho letto anche Le vostre centinaia Di commenti Sotto i miei video E ho riscontrato Da parte di molti Questa dichiarazione Questa constatazione Questa consapevolezza Quindi diciamo Che non stiamo proprio benissimo Come invece ha detto Pirlo Sperando che Soprattutto dal punto di vista fisico Questa partita La sapremo affrontare Al meglio Per tutti i 90 minuti Ma sperando anche Che non sia necessario Dove stare sul pezzo Per 90 minuti Contro questo Parma Risolvendola magari prima Un Parma Che dal suo allenatore Liverani È stato descritto Come una squadra imprevedibile Cioè una squadra Che può raggiungere Ogni obiettivo Non sono una squadra Rispetto alla quale Dare per scontata La sconfitta E ha anche elogiato La recente Pro Le recenti prove Offensive Di questo Parma E però vedremo dopo Con i dati Che dal punto di vista Offensivo È poca 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 D'altra parte Andando a rivedere Anche un po' Quelle che sono state Le partite recente Ho visto qualche partita Del Parma Posso affermare Che a mio avviso Il Parma Ha giocato Realmente Cioè ha creato Gioco Anche con un minimo Di predominio In campo Solo nella sconfitta Vittoria esterna Contro l'Udinese 3-2 Nella vittoria Esterna Contro il Genua Per 1-2 Nel pareggio 0-0 Col Benevento Che è stata Una delle partite Più noiose Della storia Del calcio italiano Credo E nello 0-0 Contro il Cagliari Per il resto Sono veramente Poca cosa Al di là Delle opportune parole Di Liverani Ovviamente Che deve Anche sottolineare Il lato positivo Della sua squadra Che ripeto Comunque sta facendo Punti Oltre al fatto Che Liverani Ha anche detto Se la Juve è in crisi Figuriamoci gli altri Cioè la Juve è quella squadra Che comunque ha battuto Il Barcellona Quindi di crisi Realmente Non si può parlare Tra l'altro Per quanto riguarda I precedenti Brevemente Poi veniamo appunto Alle statistiche Alla tattica E ai singoli giocatori Ripercorrendo Lo scorso gennaio C'è stato Juventus-Parma Abbiamo vinto 2-1 Ricorderete Mentre ad agosto 2019 Appunto con Maglia Blu Parma-Juventus 0-1 Gol di Chiellini E poi crociato Addio Chiellini O quasi A febbraio 2019 Lo ricordate Quello Juventus-Parma Parma 3-3 Mentre a settembre 2018 Quindi solo per guardare Le ultime due stagioni Parma-Juventus Finì 1-2 Come finirà questa partita? Un po' presto per chiedervelo Infatti Veniamo prima alle statistiche Dicevo Parma poca cosa Con buona pace Cioè Non voglio mancare di rispetto Io cerco di avere sempre rispetto Per l'avversario Però bisogna anche dire Le cose effettive E quindi dobbiamo anche Dal punto di vista juventino Dire Che già solo subire Più di tre tiri In porta Ma già solo due Già solo due tiri in porta Dal Parma Oggi Sarebbe drammatico Perché il Parma Non dovrebbe avere Questa capacità Di offendere E di creare pericoli Alla Juventus Lo dicono i numeri Il Parma è quattordicesimo Quindi dal punto di vista La classifica sta bene Con 12 punti Ripeto 6 dei quali Conquistati nelle ultime 5 partite Con tra l'altro 4 pareggi 12 gol fatti E 19 gol subiti Anche se Secondo Understat Avrebbero dovuto segnare 11 gol Quindi diciamo che sono in linea Con l'efficienza offensiva Ma avrebbero dovuto subire Solo 18 gol Quindi il Parma Che più o meno ha segnato Quanto ha meritato di segnare Ma ha subito qualcosa in più Di quello che avrebbe meritato Di subire E sempre Understat Ci dice dal punto di vista Del pressing Come si muove il Parma Cioè l'indice PPDA Il Parma sostanzialmente Permette all'avversario Fino a 14 passaggi e mezzo Consecutivi Prima di Riuscire ad intervenire Per andare a riconquistare il pallone Mentre riesce a sua volta A fare circa 10 9,7 passaggi consecutivi Prima di subire la riaggressione Quindi ovviamente La tenuta del pallone E del campo Da parte del Parma Non è nulla di eccelso Poi per quanto riguarda invece I dati di Huskord E quindi diciamo Quelli più concreti Come il possesso palla Passaggi, tiri eccetera Sul possesso palla Il Parma è 17esimo Col 46% La Juve è sempre prima Con il Sassuolo Che si fa sotto Al 58% Per i passaggi Il Parma è 15esimo 420 in media partita La Juve è sempre prima Con 602 Unì la squadra Sopra quota 600 Parma 13esimo Per precisione dei passaggi 82 Vedete È un dato incoraggiante Perché è una squadra Che fa poco gioco Però lo fa in maniera Abbastanza precisa Quindi dal punto di vista tecnico Non sono da sottovalutare Juve è sempre prima Con 88% di precisione Ecco La produzione offensiva Parma 20esimo Quindi ultimo Sia per tiri totali 8,3 Che per tiri in porta 2,4 Ripeto Cioè Non dobbiamo assolutamente Subire Con la Juve Invece che è sesta Sia per quanto riguarda I tiri totali 15 Che i tiri in porta 5,5 Dato che Auspico che possa Migliorare rapidamente Perché chiaramente Non va bene Per una Juve Che mira al primo posto Essere solo Sesti in campionato Per produzione offensiva Mentre per quanto riguarda I tiri subiti Il Parma È 17esimo Con 14,6 Quindi subisce Quasi più tiri di tutti La Juve è sesta Anche in questo Con 10 tiri subiti Che anche su questo Dobbiamo sicuramente Migliorare Per l'aggressività È un Parma Che è al pari Della Juve 17 contrasti a partita Siamo infatti Quinti e quarti Sostanzialmente Al stesso posto Mentre per gli intercetti Il Parma è dodicesimo Con solo 12 intercetti A partita La Juve è terza Con 15 Per quanto riguarda Altri dati Possiamo sottolineare Come il Parma Sostanzialmente Segna prevalentemente Su azione manovrata Ma subisce Sul calcio piazzato Su cui la Juve Dovrebbe avere Qualche arma Un po' più affilata Quindi potremmo Tenere in considerazione Di sfruttare questa cosa Oltre al fatto Che il Parma Prevalentemente Produce gioco Sulle fasce Tirando però Più dalla zona Di destra Che dal centro E dalla sinistra Prevalentemente Dentro l'area Ma non specificamente In area piccola Mantenendo un baricentro Tra i più bassi Della serie A E veniamo a questo punto Ai singoli giocatori Con una menzione particolare Per Hans Nicolussi Caviglia Tutti voi conoscete Il nostro Giovane Hans Che ha esordito Con Allegri E che poi È stato mandato In prestito Al Perugia L'anno scorso Facendo un ottimo Campionato di serie B Rientrato alla base Quest'anno Si parlava di un Nicolussi Caviglia A disposizione di Pirlo Come valore aggiunto Come giocatore Per il centrocampo Tra l'altro CTP Invece Si è deciso In maniera Secondo me Totalmente sbagliata Di mandarlo in prestito Al Parma Hans Nicolussi Caviglia È un calciatore Di grande qualità E soprattutto Nella zona calda Nella zona offensiva Per quanto riguarda La rifinitura E quindi In un Parma Che sta così basso Così schiacciato Che sfrutta più che altro L'ampiezza E le ripartenze Ma che tira pochissimo Era veramente sprecato È stata un'operazione Sbagliata Possiamo dirlo Senza timore di smentita A prescindere dal fatto Che E auguriamo Con tutto il cuore A Hans Di riprendersi Il prima E al meglio possibile Nell'allenamento Del 15 dicembre Ha subito Una distorsione Al ginocchio sinistro Che gli ha provocato La totale rottura Del legamento Crociato anteriore È stato sottoposto All'intervento chirurgico E starà fuori Quei 4-5 mesi Anche 6 Necessari Quindi Hans Nicolus Chiaveglia Stagione finita Per lui Proprio alla vigilia Di Parma-Juventus Dove però Magari Liverani Che finora L'aveva visto zero Facendolo giocare Solo in Coppa Italia Neanche l'avrebbe convocato O forse l'avrebbe Comunque tenuto in panchina Però sarebbe stata Sicuramente Una grande Occasione per Hans Un grande momento E quindi Ha dovuto rinunciarci Ci stringiamo Noi tutti Come hanno fatto Anche i calciatori Della Juventus E tutto il popolo Bianconero Sui social A lui Perché possa riprendersi Al meglio Tra l'altro Ho grande stima personale Di Hans Da tempo Quindi lo seguo Da tempo Quando era Ancora nell'Under 19 Poi è passato Nell'Under 23 Da anni Veramente Non vedo l'ora Che possa prodare In prima squadra Purtroppo ha avuto Questo intoppo E speriamo Che lo possa superare Veramente al meglio Per il resto Come dicevo Non c'è Di Bala Per questo affaticamento Non c'è Artur Per quella botta Chiellini e Demirà Stanno recuperando Dei rispettivi infortuni Al Parma Oltre a Nicolussi Caviglia Mancano Grassi Lorini Pezzella E Scozzarella E quindi quali saranno I giocatori a disposizione Di Liverani E come scenderà in campo Il Parma Tra l'altro Parma che ha cambiato Diversi assetti tattici In questa stagione Hanno utilizzato Qualche volta Una difesa a tre O meglio Tre centrali difensivi Dal volta Con una linea arretrata A cinque Prevalentemente però Una linea arretrata A quattro Poi a centrocampo A volte si mettono a tre A volte si mettono a due A volte c'è un trequartista A volte ce ne sono due Quindi sfrutta Diciamo l'ampiezza Se vogliamo Della sua rosa La duttilità Della sua rosa Liverani Però va anche detto Che fino a questo momento Non si capisce bene Qual è il modo Di giocare del Parma Se non il fatto Appunto di stare bassi Sfruttare l'ampiezza Sviluppare sulle fasce E puntare prevalentemente Alle ripartenze Come lo stesso Pirlo Ha detto ieri a JTV E quindi La formazione titolare Dovrebbe vedere Se per importa Una linea arretrata a quattro Con Jacoponi Bruno Alves Sempre grande amico Di Cristiano Ronaldo Osorio E Gaiolo A centrocampo Non certo il miglior centrocampo Qualitativamente parlando Della serie A Con Kucca Hernani E Kurtic E in attacco Gervinio Inglese E Caramò Ovviamente Con Caramò Che molto probabilmente Si abbasserà Sulla linea Dei centrocampisti Molto di frequente Gervinio Che si abbasserà Pur rimanendo comunque In zona abbastanza centrale Più che allargarsi E Inglese Che punterà A Fardaboa Per far salire la squadra Dall'altra parte Che Juventus Vedremo in campo Dovremmo parlare anche Di Buffon Che anche oggi Ha deciso di giocare Nel senso che Diciamo che Pirlo Ha deciso di dare La passerella Parma A Buffon Va benissimo Ripeto Lo avevo detto Prima del Barcellona Poi tutti quanti Adesso chiedi scusa a Buffon Poi vorrei che qualcuno Chiedesse anche scusa a Shesny Che anche con l'Atalanta Ci ha salvato Letteralmente Come aveva fatto Nelle partite Per Barcellona E adesso Torna in panchina Sempre per mantenere Questa discontinuità Pur essendo comunque Shesny Riconosciuto Primo portiere Per carità Se Buffon Ha deciso di ritirarsi A fine anno Ci sta l'ultima passerella Al Camp Nou Che tra l'altro È stata un'ottima prestazione sua Ci sta l'ultima partita Parma Che è simbolica Tra l'altro Lui col 77 A Parma È storia Se vogliamo Però comunque Resta il fatto Che sulla scelta Di come impiegare i giocatori Ci sono secondo me Troppe componenti Che vanno a interferire Con le scelte tecniche di Pirlo Difesa a retratta Cioè zona linea a retratta Con probabilmente Turno di riposo per Quadrato E meno male Anche perché con l'Atalanta Ha giocato pure male Ma non si può dire Perché deve rinnovare il contratto Quindi dobbiamo solo Solo elogiare Quadrato Mi raccomando E quindi Danilo Bonucci Delict E Alexandro Anche perché continuiamo E non avere alternativa In difesa Se non Dragosin Che forse farà qualche minuto Se va bene Però questa difesa Diciamo che è scontata Ma mi va anche molto bene A centrocampo Si parla di Chiesa a destra Per grande gioia Di molti di voi Che dite che a sinistra Non rende Io però farei giocare Kluseschi Perché ragazzi Se Kluseschi non gioca Neanche a Parma Contro il Parma Non so quando gioca Cioè onestamente È un giocatore Totalmente da recuperare Sparito completamente Dai radar Comunque dovrebbe giocare Chiesa Non essendoci Artur Dovrebbero giocare Bentancur e McKennie Perché poi Sono anche i migliori O i meno peggio Soprattutto Bentancur Mentre McKennie È proprio uno dei migliori Certamente Rabiù è in campo In questo momento Non lo vuole vedere nessuno Con Ramsey Forse finalmente recuperato Anche perché Senza Dybala E senza Artur Vorrei sapere Chi mette la qualità Se non Ramsey In attacco appunto Morata Ronaldo Senza alternative E probabilmente Anche senza ricambi Eccettuato forse Un Bernardeschi selvatico Che capita così E soprattutto Kluseschi Che diciamo Speriamo che veda il campo Perché altrimenti Ripeto Non si capisce Che fine abbia fatto Cosa pensate Di queste ipotesi Di formazione Che tipo di partita sarà Qual è il vostro Oronostico Forse ne ho dette troppe Quindi mi fermo Grazie per la vostra attenzione Video prepartita Lunghissimo Ma serve anche per riempire Lo spazio orario Che ci porta Alla partita di stasera E per mettere insieme Una serie di cose Molto dettagliate E complicate Come per esempio La questione Dybala E allora aspetto I vostri commenti Nel rispetto Delle opinioni di tutti E mettete like Al video se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Attivando la campanella Delle notifiche Per tutti i prossimi video Ci vediamo molto presto E sempre forza Juve